A distanza di 40 anni di omissioni, depistaggi, coinvolgimento di servizi segreti, la verità sulla loro sorte appare ancora lontana, nonostante le battaglie delle famiglie affiancate dalla Federazione della Stampa e dalle associazioni territoriali. Italo aveva 50 anni, il suo nome era legato a un'inchiesta per pari match sui campi di addestramento palestinesi. Graziella aveva 24 anni, collaborava con Paese Sera, si era specializzata in inchieste sui grafici di armi, insieme avevano scritto un libro su Che Guevara. Le loro strade si erano incrociate grazie al comune interesse per la questione medio orientale. Il loro viaggio era stato organizzato con Nemer Ahmad che rappresentava l'OLP in Italia. Erano arrivati a Beirut dieci giorni prima di sparire. Il giorno prima si erano rivolti all'ambasciata, se non ci vedrete entro tre giorni date l'allarme. Il 2 settembre uscirono dall'hotel Triumph di Beirut, salirono su un'auto di Al-Fatah che faceva capo all'OLP. Da lì il silenzio. Tante ipotesi con collegamenti con la strage di Bologna e l'ombra sul ruolo di Stefano Giovannone, capo del sismi a Beirut, indagato, arrestato, ma anche incaricato di svolgere le indagini sulla loro scomparsa. La procura di Roma alcuni mesi fa ha deciso di riaprire le indagini sulla base di elementi nuovi. Oggi le famiglie che invocano la verità e due corpi da piangere, assistita dal presidente della Federazione della Stampa Giuseppe Giulietti, vengono ricevute dal presidente della Camera Roberto Fico.